Musica Ricordi la sera che hai cantato al karaoke? Erano sedute lì le due donne. A me è capitato di incontrare la più piccola. Ci siamo mezzi sposati. Perché non l'hai fatto? Ho perso il suo numero. Cercalo sull'elenco telefonico. Non so il suo nome. Certo che questo è un guaio. Andiamo al cinema. Certo che questo è un guaio. 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 Certo che questo è un guaio.